Nei prossimi giorni, almeno fino a venerdì santo, l'anticiclone africano avvolgerà l'Italia in un caldo primaverile. Le temperature saliranno sopra la media del periodo anche di 5-6 gradi, niente male per essere a metà aprile. L'arrivo del cammello, così viene definito l'anticiclone africano dai simpatizzanti meteo, sarà favorito dall'ingresso di un vortice ciclonico tra la penisola iberica e l'Africa, vortice che in qualche modo riuscirà a influenzare anche l'Italia meridionale. Ma vediamo in che modo. Martedì 12 al nord, cielo coperto al nord-ovest in particolare, sole altrove. Al centro si copre in Sardegna tante nubi sulle coste tirreniche, meno altrove. A sud nubi sparse solo in Sicilia. Mercoledì 13 al nord cielo spesso molto nuvoloso e coperto. Al centro tante nuvole su tutte le regioni. A sud cielo spesso molto nuvoloso, anche coperto in Sicilia. Giovedì 14 al nord cielo via via poco nuvoloso. Al centro nubi irregolari. A sud e sulle isole nuvolosità diffusa ma innocua. Tendenza venerdì, giornata piuttosto calda. Da sabato arriva però aria più fredda. E il weekend di Pasqua sarà incerto anche nella Sicilia centrale, quindi a Caltanissetta.